Noi crediamo che l'impegno, la fatica e il coraggio che ogni giorno metti nel tuo lavoro siano indispensabili per arrivare al successo. Il circuito Markex è nato per aiutare le imprese del territorio come la tua, facendoti utilizzare i crediti MEX senza usare l'euro. Noi del circuito Markex siamo marchigiani come te. Amiamo il nostro territorio e crediamo fortemente nelle aziende di questa regione. Per questo vogliamo aiutarti ad acquistare e vendere senza usare gli euro e senza l'intervento delle banche. Grazie al circuito Markex puoi lavorare acquistando e vendendo prodotti e servizi utilizzando i crediti MEX, la nostra moneta complementare elettronica che sostituisce e ti fa risparmiare gli euro e usare i MEX. Markex è il circuito per le imprese marchigiane di ogni tipo, grandi e piccole. Lo testimoniano le quasi mille aziende che già ne fanno parte. Organizziamo anche eventi e manifestazioni per farti conoscere. Uno staff di 25 persone è a tua disposizione per aiutarti nell'uso della moneta complementare. Far parte del circuito Markex significa farti conoscere e fare affari senza il rischio di insoluti. Tutto questo con zero commissioni di transazione. Noi crediamo nel nostro territorio e crediamo in te. Iscriviti e costruiamo insieme il nostro futuro.